Ciao a tutti! Allora! Asciutto! Come se Mangia! Come! 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 ah 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 e ah Ancora a fare un'altra cosa Oh Non mi sembra che inizia Allora ragazzi cominciamo, per primo vediamo il giocatore, Marco Lombardo, eccolo qui, concentratissimo, eccolo qui Marco Lombardo, eccolo qui Già cominciano, già cominciano le prime polemiche, ecco qui, a posto? Mi ricordo che nello schermo di sopra c'è Antonio Sexinkawa, nello schermo di sotto c'è Marco Lombardo Argentisi, in questo momento è morto Ma no, si è sentuto, no? Questo momento è morto, chi è che è morto? Antonio Sexinkawa, freddato, banza, si gira, si gira, si rigira Ah, questa volta Antonio la fa grossa Ragazzi attenzione, macchinina in zona Credo sarà Davide Tu sapevi che sei arrivato a me? È grande, è Angiuletta, andiamo a vedere un po' Angiuletta Ecco qui, è Angiuletta Ragazzi ammiriamo la determinazione di questi giocatori, si può consolare perché non c'è profilo stanza ragazzi Sì, solo così Angiuletta può fare i primi Oh, mi cazzo, ma che... E' bello 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 L'uccisione di fila, grandissimo colpo alla testa ragazzi E' il sumerino ACOG Ah In 15 scholarship E' facile Uh, e' machinina Mhm Vediamo un po' se la machinina andrà a buon segno Si incarta nel muro Eh beh In realtà è davvero che va a finire sulla macchinina C'è lui con una scoppettona rossa Io comunque una misa attiva Martì, infatti c'è una misa attiva Guardiamo che E a questo momento Non giuccio aggianirlo Senti Chi era? In amica Doveva chi era? L'RCX di proprio all'uso Attenzione, un'altra macchinina Ma probabilmente Altro botto Infatti arriva Infatti arriva Antony con il suo galeri Tutto uno con quel fucile Sì, se qui l'hai sotto Con l'Aug Ah, io con l'Aug Tutti concentrati Non si dice nemmeno una parola In termini No si dice nemmeno una parola Ah, io con l'Aug 号 Ma il panorama mi piacerebbe proprio E' un po' più spavolosa 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 E' grande non lo sa cos'anno E' un po' più spavolosa Non ti dimenticare la cassa Non ne prende uno ragazzi Non ti dimenticare la cassa 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 E' finita E' finita